Come sappiamo l'acqua, essendo una risorsa scarsa di pubblico utilità, dovrebbe trasversalmente interessare tutti i comparti dell'economia, tutti i settori dell'economia. Anzi, sono anni che supportiamo questo report, una grande opportunità per noi aziende. Ringraziamo Fondazione Univerde per questo, per averci coinvolto anche quest'anno. Riteniamo essenziale diffondere il più possibile, soprattutto ai più giovani, questo documento e gli obiettivi di questo documento. Relativamente alla domanda, per l'acqua dobbiamo assolutamente intervenire. Sicuramente ci vuole un mix di soluzioni, quindi intervento sulla parte infrastrutturale e anche l'agricoltura che rappresenta una buona parte dei consumi. Ma sicuramente se vogliamo innescare un grande cambiamento, dobbiamo anche arrivare, giungere all'uso residenziale, informare e formare i cittadini sul corretto uso dell'acqua.